Ancora il parco Enzo Lavalva, biglietto da visita del comune di Diamante al centro delle denunce di cittadinanza attiva. Il referente Domenico Liva, conosciuto anche per la sua battaglia contro l'ASP di Cosenza per il ritorno della postazione del 118 a Diamante, punta il dito contro l'amministrazione Sollazzo che, secondo Liva, starebbe perpetuando la politica di abbandono del territorio già iniziata con l'ex governo cittadino a guida Magorno. Il parco naturale aveva al suo interno delle strutture in legno o in misto legno che sono andate completamente distrutte proprio per la mancanza di manutenzione ordinaria e sono addirittura state inglobate totalmente dalla vegetazione. Quindi questo è un primo esempio emblematico. Il secondo esempio, che è quello della passeggiata sottostante a lungomare, è di facile individuazione poiché basta affacciarsi dal lungomare stesso per notare come tutta la ringhiera sottostante è completamente arrugginita o addirittura marcita e questo ha fatto scoppiare letteralmente le colonnine che sostengono la stessa ringhiera con un'evidente domanda sulla correttezza o sull'eventuale errore di progettazione e di realizzazione dell'opera. Anche qui chiaramente lo Stato di fatto fa pensare e dimostra un'assoluta incuria, un assoluto stato di abbandono da parte dell'amministrazione comunale nei confronti della cosa pubblica. Il referente di cittadinanza attiva spera nel pronto intervento della Corte dei Conti visto che, spiega Oliva, questo abbandono ha provocato un danno eraviale. Danno economico che, come sempre, è un danno che grava sulle spalle del cittadino un'estrema incuria pertanto che ha prodotto il profondo degrado di due opere che possono considerarsi il biglietto da visita del Paese è uno stato di abbandono che denota quanto il centro di interesse dell'amministrazione comunale si sia allontanato dalla tutela del patrimonio. Ora, si spera che la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti che sono gli organi deputati intervengano non solo per evitare che si aggravi la condizione di degrado ma soprattutto per mettere in luce carenze e responsabilità e di conseguenza irrogare le giuste sanzioni a carico di coloro che vengano ritenuti colpevoli di tale scempio.